Un scontro diretto importante, importantissimo, ma tutte le settimane ci diciamo la stessa cosa. Oggi non vedo partite dove non possono essere molto importanti. Scontro diretto è fondamentale, loro sono quattro punti sotto noi, e quindi voler vincere là vorrebbe dire proseguire, secondo me, un processo di crescita che ci sta, è presente. E quindi io me lo auguro per i ragazzi, perché fondamentalmente stanno facendo anche buone partite, non sono gratificati dal risultato, quindi vincere una partita, oltre più uno scontro diretto e soprattutto fuori casa, sarebbe una vittoria molto pesante. Non devo difendere me stesso, io voglio difendere i giocatori, e che i giocatori secondo me meritano risultati diversi, e sono stra sicuro che lotteranno fino all'ultimo secondo per ottenere questo tipo di risultati. Poi il mio futuro coincide con i risultati, questo lo so, mi sembra scontato, non ci stiamo dicendo niente di nuovo. Fano io vivo lì, quindi oltretutto so, nonostante siano ultimi, c'è una determinazione con i nuovi acquisti di voler fare una scalata. Quindi aspettano questa partita per riattaccarci a un treno salvezza, quindi la vittoria sicuramente la vorremmo ottenere a tutti i costi, ma troveremo sicuramente una battaglia, e voglio preparare la squadra, preparare la partita sotto l'aspetto mentale di aggressività, molto importante, perché solo tramite questa squadra riusciremo a fare il risultato da Fano. È una squadra che ha cambiato tanto, davanti ha comprato Melandri, Fioretti e Germinale, che quindi sono andati sull'esperienza, sui giocatori importanti per la categoria, che la società ha fatto investimenti importanti in questo mercato di gennaio, quindi ha mandato un input ai giocatori di voglia e di salvezza, e avendo fatto il giocatore, quello è un dato molto importante, chiaramente sono concentrato su di noi, nel senso che noi dobbiamo pensare a fare la partita migliore che possiamo. Il calciatore leader, ed è quello che Marco ha rifatto dopo Lume Zane, che era la terza partita che era partito dalla panchina, ha dimostrato grande professionalità, grande serietà, i colpi di Marco non stiamo qui a sottolinearli, perché è evidente, ci li sta mettendo la cattiveria, l'umiltà verso i propri compagni, e quindi adesso Marco può essere quel valore aggiunto che sicuramente ha nelle sue doti.